La inizio del 2023 e il ponte di Buara subirà dei lavori di manutenzione, questa cosa preoccupa? Sicuramente preoccupa, anche perché i paesi sono confinati porterà dei problemi, però se deve essere fatto bisogna farlo. Un po' preoccupa anche perché io lavoro tantissimo con Buara Pisani e con i paesi vicini, quindi spero vivamente che comunque sia aperto, almeno una parte. Anche perché i lavori dureranno più di un anno e mezzo. E infatti, e questo preoccupa, però speriamo ci sia un po' di buonsenso, dai. No, per me no, non so per gli altri perché non è che conosca tante persone. Comunque sarà un disagio visto che durerà un anno e mezzo. Sì, sì, è un disagio. Ma un pochino, penso di sì, comunque che preoccupi un po' tutti, insomma, ci sarà un po' di disagio. È una cosa lunga? È una cosa che durerà un anno e mezzo. Allora sì, è un problema.